Musica Musica E ciao ragazzi benvenuti in questo nuovo video Siamo nel nuovo video di Capodanno, Capodanno 2021 Quest'anno l'intro ve la faccio da casa perché siamo in zona rossa Non mi aspetto nulla di chi per quanto riguarda botti e fuochi d'artificio Ma comunque sono qui a registrare perché è il format più importante del mio canale Quindi ragazzi supportatelo con un like Incrociamo le dita per questo 2021 Le incrociure e la mano dove sta il microfono perché ne abbiamo bisogno Se non mi resta che lasciarvi alle clip Buon 2021 ancora Al momento La situazione è bella silenziosa Tra l'anella giù Siamo proprio lì Si sentono ma non si vedono Più pullman che batterie Per vedere i fuori si vuole il binocolo quest'anno Ma non ci sta niente da fare Non ci sta niente da vedere Quest'anno è nera Quest'anno è proprio nera Non ci sta niente Non si spara Però la nostra promessa è che è l'anno prossimo Facciamo le cose La pazza gioia Esatto Ci andiamo a ammestire Venimmo poi ci organizziamo I compagni S'organizzano E quindi facciamo un milione di visualizzazioni Ragazzi Ma sta uscendo la luna bellissima Cioè in tre secondi è uscita Per tutti gli amanti del Capodanno Questa è l'immagine più romantica vi posso dare Sì Avevo previsto il Capodanno dell'utente E ho portato un video sul canale Quindi andatelo a vedere Parte qualche rumore e lontananza Qui la situazione è sempre silenziosa Ore 19.04 Il silenzio Ma non possiamo andare Ci passa una vattuccia Rabbinieri Qui si fugge Si fugge Fu fu Ora tengo pure il titolo per il nuovo video Ecco qua ragazzi Capodanno a Napoli Mi do male Dunque sono salito La festa non sarebbe stata in ogni caso Quella delle sei Ma i carabinieri Hanno messo la parola fine A questa nostra ipotesi Quest'anno teniamo Urikami A mezzanotte si festeggerà in streaming Aggiungerei che merda La festa è già cominciata al Tomorrowland Bello No poi al Tomorrowland ci andiamo Non potevamo fare a meno del collegamento con il grande fratello Il problema è che per farlo c'è gente che se lo vede pure La 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 Mamma Natale Tra poco il capo dello Stato Ecco qua Vabbè possiamo anche girare Vediamo a Rai 1 che cosa Rai 1 cosa ci offre E ti unificate Grazie per averci seguito Ecco qua E' finito anche qui Perfetto Buon esempio Stuto Ciao Perfetto Io sto proprio con il maglione vintage Sto tenendo pure nel video di 3 anni fa Questo qua C'ha un età Azzurro e blu Che poi Che è di Piazza Italia Di Piazza Italia Di Piazza Italia Pagato 10 euro Qua c'è stato tutto il paesaggio E' strutturato Complemento a Piazza Italia Oh Per chi non ha il maglione addosso C'è il piedino Chic Sembra che c'è un Una fette di pane Fai vedere che è un piede Ok perfetto In diretto dal Qui Rinale Al Qui Rinale Ha cambiato posto Di solito non sta qua Sono giorni questi In cui convivono Angosce Sono mesi A ore 20 e 30 Piove Eh c'è un problema Non si leva Dammi qua Dammi qua Eh tu Questo vero si è salto Tutti lo diamo Ma pure se ci posso Eh Questa è la bomba però Auri 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 Dai ma al dito Dai ma al dito Sì Sì Buah ce l'avevamo spaventato Ma il party devo montrare Cosa è Scusso Il bellini non può mancare Lo chef propone Calamarata con Paccheri Calamari Gamberi E pomodolini Amico Ti schifo Eh Sydney Fai i primi Classica torre Hanno cambiato i colori Quest'anno però Uh grazie 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 Ci hanno tagliato le antenne A questo gamberetto Sì Sì eh Svoltacela Storie infinite Finite come finite Che scrivono Non sa se Dici Ah Non so Non sa fare la schiena Ma non sa se non è la verità Ti amo Dono Sonno Carta scenica L'anno che verrà all'interno di uno studio Non so povere Non si può vedere 857.349 calorie Va bene Sa fare l'assembramento Basta 4 basta No 5 Stiamo aggiorando Per me Per risolvere la situazione A Sanremo Come ospiti speciali Il cuco E morga Devono di nuovo Finire la canzone Perché non hanno furida Se non si con la canzone È fuori E fuori Quindi è da lì Perché iniziano tutto È della Significa La signora qualcuno Che non ha capito niente Allora Signora magistri Si è dato il diritto Di accensione Di tutto La signora si sta fumando la sigaretta Come l'ha accesa con la sigaretta Signora Posso dire una cosa Si è fumata la sigaretta Le ha anche buttate Quindi non solo È andata contro la legge Ha pure sporcato Ha anche incunnato il pianeta Non manca molto Non mi avete chiamato Le castagne del prevede Quest'anno Un stocciolo e rococò Fatte in casa Ragazzi Quanto manca? Scusate 57 Si deve aprire 30 secondi E ci siamo 5 4 3 2 1 6 Maturi Buona la pista All'ottima All'ottima Sì Sotto 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 Adesso si preparano Ok facciamo E buon lavoro Sottino Sottino E' un'ottima E' un'ottima Velocissimi Veramente è una Serata Familiare Mezzanotte Mezzanotte Qualche secondo Finalmente L'anno Se n'è andato Un anno Impossibile Mi affaccio Lanciano le cose Giù dal balcone Giusto Andiamo di qua La situazione C'è qualcosa Nel mezzo C'è qualcosa Nel mezzo Pochissima Pochissima Aguri Aguri Buon nominale Ragazzi La faccio Buon nominale Buon nominale Buon nominale E' un anno E' un anno migliore Che quest'anno Noi stai Assolutamente Aguri ragazzi Aguri Sono io dietro La telecamera Adesso 2020 Va a f***o Riccardo Eccolo Quanto Fuori Questo è quattro Questo è quattro 2.020 Va a f***o Va a f***o Anche questi Saranno Dai C'è la magra Uno Due Un UFO Mezzanotte E' quattordici Come si prevedeva La situazione è già silenziosa Ragazzi La cosa brutta voi Che tutti quelli che stanno sparando Stanno sparando In una zona in cui non possono Ancora I fuochi Cioè In tutte le zone Che mi ciro Non riesco a vedere Li sento Ma non li vedo Non ho mai visto Quel piazzale Così pulito A questo orario In questo giorno Quelli dell'Asia Domani vengono qua Sconvolti Troveranno già tutto pulito Incredibile Mai visto Da quando Sto in questa zona Mai visto Ehi ragazzi Il video si conclude qui Come avete potuto notare Il rispetto comunque Delle persone che non ci sono più Di comune accordo Abbiamo deciso Di non fare troppo casino Spero abbiate trovato Comunque simpatico il video Vi abbia intrattenuto un pochino E abbiate capito la situazione Non vi preoccupate Per il video dell'anno prossimo Avendo saltato quest'anno Sicuramente sarà Un capodanno Grandioso Io vi ringrazio Per aver visto il video Supportatemi con un mi piace E soprattutto Iscrivetevi al canale Noi ci vediamo In un prossimo video Io vi saluto Il mio augurio più grande E sempre per un 2021 Che non sia grandioso Non voglio esagerare Ma voglio tornare Alla normalità Speriamo di tornare Tutti quanti Alla normalità Poi saremo noi A metterci in carreggiata E saremo noi A dimostrare E a fare Tutto quello Che abbiamo pensato E sperimentato In questo 2020 Quindi Un abbraccio E ancora una volta Buon 2021 A tutti